La cantante canadese Shania Twain ci offre una lezione di resilienza e forza d'animo, affrontando con coraggio e determinazione il tradimento del marito, e trasformando il dolore in una nuova opportunità di crescita. Dopo essere stata tradita dal suo ex marito Robert John, Muth, Lange con l'ex migliore amica Marianne Thibault, Shania Twain ha dimostrato al mondo la sua capacità di rialzarsi dalle avversità. Il matrimonio tra Shania Twain e Frederick Thibault, ex marito di Marianne, ha suscitato scalpore, ma ha anche rappresentato un simbolo di rinascita e resilienza per l'artista. Attraverso la musica e la sua determinazione, Shania Twain, ha trasformato il suo dolore in forza, ispirando milioni di persone in tutto il mondo. In un mondo pieno di sfide e difficoltà, la storia di Shania Twain ci ricorda l'importanza di affrontare le avversità con coraggio e di non arrenderci mai davanti alle difficoltà della vita. La resilienza e la capacità di trasformare i momenti di dolore in opportunità di crescita sono qualità che tutti possiamo imparare dall'esempio di questa straordinaria artista.